Ma ciao! Buongiorno, buon pomeriggio eppure buon! Ho ripristinato il tutto, vedete, sembra una vela. Uno da una barca al velo, non l'ho fatta apposta, così. L'ho messo su alla cazza dei cani senza guardare, così. Sembra una vela, belline. Ho messo le pile nuove, come vedete, fanno luce. E si accendono e si spengono anche, non lo sapevo mica, perché avevo messo su la pila che scarica e non facevano acceso e spento. Belline, belline. Allora, 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 siamo qua con l'apertura del calendario dell'Avvento, quello che avete visto in copertina. Eccolo qua. Allora, noi siamo gente del popolo, poracci, allo stato brado, allo stato puro, siamo poracci. Non ci possiamo permettere i calendari dell'Avvento che comprano gli altri, 5, 600 euro, 200 euro, 180 euro, no. Noi siamo gente del popolo, gente che proprio vive alla giornata. Voi direte, magari, pensa per i cazzi tuoi, noi non siamo gente del popolo e ce lo possiamo permettere. Beati voi, io non me lo posso permettere, perciò sto cercando in giro i calendari dell'Avvento che costano poco, poco e che siano carini. Non più quelli di dolci, basta, perché siamo rigorosamente a dieta, perciò stop, dimentica, come diceva Ambrangiolini. Ecco, era Ambrangiolini, stop, no, forse era, era, come si chiama, stop, dimentica, forse era Tiziano Ferro, no, Ambrangiolini, credo, credo, credo. Allora, volevo prendere quello per il Lapo, perché sapete che tutti gli anni solitamente compro il calendario dell'Avvento del Lapo, però mi rifiuto categoricamente perché l'hanno portato da 6,90€ dell'anno scorso a 14,90€ uguale, identico dell'anno scorso. Ho detto, tenetevelo perché proprio regalargli i soldi per 24 bustine con dentro 3 croccantini a casella è proprio buttarvi i soldi, sapete, pacchi di biscotti che gli compro con quegli soldi. Noi siamo gente del popolo, poracci allo Stato Brado. Allora, ho preso questo, l'anno scorso ne ho presi tanti calendari, ma ripeto, li hanno aumentati fuori di testa. Quello della Nivea l'anno scorso l'ho pagato 32,90€, quest'anno costa più di 40€, uguale, teneteveli, teneteveli, o vendeteli alle influencer famose. Io invece mi sono accontentata di questo preso su Amazon, preso su Amazon col coupon, non so se c'è ancora perché io l'ho comprato una settimana fa questo, mi è arrivato ieri anche in ritardo, e c'era il coupon perché io ve l'ho sempre detto, dovete prima di comprare la roba mettetela nel carrello, perché o lo sconto o il coupon ve lo danno sempre. Io l'avevo messo nel carrello e mi sono trovata, perché poi arriva la notifica, mi sono trovata il coupon del 10%, ok? Perciò l'ho pagato 20, non mi ricordo se 22,90 o 23,90, questo qua, ecco, su Amazon, col coupon, non so se c'è ancora, se lo danno sempre, non lo so, per ogni tanto mettono fuori coupon, ecco qua, 24 caselline beauty, 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 non so di che marca siano, sicuramente non saranno di marca Pupa o quant'altro, ma chi se ne frega! Allora, andiamo con, e la, c'ha l'etichetta della chiusura che non si leva, levata, e andiamo ad aprire, vediamo che non si apre, non c'è un'altra etichetta, no? Ma come cazzo? Ah, sì! Uh! 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 Ma che bello! Non pensavo che era così bello! Io pensavo che era tipo quello della Nivea o gli altri che avevano sopra tipo così e che strappavi la casellina, capito? strappavi, invece guardate che carino, non l'avevo visto che era così, c'ha, c'ha tutte le scatoline, 24 scatoline, bellissima questa cosa, non l'avevo visto, bello, 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 mi piace, anche perché poi è riutilizzabile, no? Non lo butto via, e magari un altro anno gli posso mettere dentro qualcosa e farlo io il calendario, no? Eh? Vabbè, comunque andiamo con la numero uno che è la scatolina grande, number one, number one, number one, e andiamo a vedere, non pesa niente, ecco, uh! Uh! Bella, beh, bello, questo dai, lo uso, come potete vedere c'è lo giallo, che l'ho vinto sempre in un calendario dell'avvento l'anno scorso, non mi ricordo in quale, ma l'ho vinto anche quello, comunque un ciuffi ciuffi qua per tirare sui capelli, comodo, comodo perché io li uso tanto perché non strappano i capelli questi, perciò nella casellina numero uno, rimettiamola al su, queste qua, visto che non sono quelle da cercare, non vado alla cazzo dei cane, perciò cerchiamo la numero due, 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 ventidue, due, ed è una casellina lunga, lunga, eccola qua la due, e qua ci sarà, boh, una matita forse, che sono anche chiuse, vedete, anche messe dentro bene per quello, eh! Nella sua carta, e andiamo a vedere cosa c'è dentro, e c'è dentro, cos'è sta roba? Aie Aie Cap Tine, Liquid Eyeliner, Traceur Liquid Powerless Yeux, sì, vabbè, non lo apro perché una volta aperto bisogna usarlo, comunque è un eyeliner di marca sconosciuta, v7, non lo so, comunque un eyeliner, ok? Andiamo con la numero tre, 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 eccola qua, nera, number three, number three, questa è abbastanza pesante, magari c'è un profumo, non lo so, perché io non ho voluto, guardo, io non guardo mai cosa c'è dentro, ecco, perché altrimenti non è più sorpresa, allora, vediamo cosa, oh, secondo me qua c'è dentro una palette, una palettina, allora, vediamo, cazzo si apre, eh! Una palettina, oddio che brutti colori, il nudo qua, il nudo qua, il color nudo non mi piace, io sapete che vado più sull'azzurro, sul violetto, anni 80 io, proprio azzurro, comunque è nude, credo si dica, nudo, nude, ed è shimmer brick, shimmer brick, e è shimmer bronze, bronzer, portrait, sole air, sole, sole puder, questo qua, ecco qua, una palettina, andiamo col numero, no, aspettate che devo rimettere dentro le caselle, altrimenti poi non sono più capace di metterle dentro come erano, perché qua è tipo un puzzle dopo, no? È tipo un puzzle e non si riesce più a metterle dentro come erano, perciò, vedi, già adesso, non, ecco, vedi, così, no, è, vedi, è molo, messe diverse e non so più, ah, così, ok, allora, giriamo così e giriamo con l'uno, due, ok, adesso andiamo con la numero quattro, prendiamo su la numero quattro, la numero cinque e la numero sei, facciamo una tripletta, allora, apriamo la numero quattro, numero quattro, e qua c'è, secondo me, un pennellino o una matita, eh, sì, una matita, eh, sì, allora, è una matita Lip Twister, Lip Liner, Lip Liner, Crayon a Levress, delineador de labios, ah, lo spagnolo lo so, delineador de labros è per fare il contorno delle labbra, proviamo, proviamo, proviamo a vedere se è buona, che magari, rossa, beh, giusta, rossa, perché, vediamo, proviamo, allora, delineador, ecco qua, ti buca le labbra sta roba, è dura, non è una matita morbida, è dura, tipo, forse perché è fredda, è fredda, ma è dura, non è morbida, che si stende bene, comunque una matita per le labbra, ok, andiamo con, speriamo ci sia pure il rossetto, che ci mettiamo pure quello, il cinque, il cinque, credo un'altra palettina, al sentire, un'altra palettina, oh, il blush, il blush, credo sia quello che si mette qua, ma che brutto scuro che è sto blush, il blush, eccolo qua, il blush, vabbè, lo conosciamo tutti, il blush, numero sei, number, one, two, three, four, five, six, number six, number six, number six, uh, ma questo è grosso, eh, questo è grosso, non è una matitina, deve essere qualcosa di più, ah, e allora è un, un, è, è il lust, è il lust, sarà un mascara, se è un mascara, se è un mascara, non lo apro, perché altrimenti poi si secca, comunque è un mascara, e abbiamo aperto anche queste, adesso le vado a rimettere a posto, allora, mo' andiamo con, non mi ricordo più a che numero ero arrivata, eh, perché adesso le ho, no, devo tirarle fuori, eh, non mi ricordo più, questa è vuota, questa è vuota, questa è vuota, eh, non mi ricordo, vabbè, andiamo alla cazzo dei cani, tanto non importa, basta che la 24 sia aperta in ultima, perciò andiamo con la 18, la 18, la 18 e la 10, allora, la 10, la 10, andiamo con la 10 e andiamo ad aprire, cosa c'è nella 10? Nella 10 c'è, sembra una supposta, ma non credo sia una supposta, Lipstick, che buon profumo che ha, è un rossettino, sembra una supposta, ma non lo è, andiamo con la 18, andiamo con la 18, che è, banana, banana, banana dreams, banana dreams, c'è manco scritto cos'è, non lo so, banana, rose powder, non lo so, ditemi voi cos'è, banana dreams, non lo so, beh, ditemi voi cos'è, andiamo con la numero 11, oh, un altro rossettino, che è rosa, ed è ultra creme lipstick, 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 un altro rossettino, ma sono un profumo che non potete capire, rosa, bello, ma io cerco rosso, io voglio rosso, allora, andiamo con la numero 12, 13 e 17, allora, andiamo con la 17, che è, è, ma cos'è sta roba qua, è il ver e la fa, non lo so, alla fra, ah, un coso alla fragola, mamma mia, che buon profumo di fragola, chissà, è un balsamo labbra buono, questo lo uso sicuramente, è un balsamo labbra alla fragola, che sa tantissimo di fragola, balsamo labbra alla fragola, andiamo con la numero 12, 12, 12, e troviamo un glow comotion, shimmer in glister e jessado, non lo so, cos'è, penso un tipo in fondotinta, shimmer, i, i, boh, ditemelo nei commenti cos'è, non lo so, allora, andiamo con la numero 13, la numero 13 è, un'altra palettina, uh, ma che bellino, onolulu, onolulu, questo onolulu, e cos'è onolulu, onolulu, mi viene in mente quella di, di cove, lo ricordate, onolulu, baby, na 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 na, bello, onolulu, eh, non lo so, credo che anche questo sia una specie di, di fard, credo sia una specie di fard anche questo, onolulu, credo, buh, allora, andiamo con la 23, la 22, e la 19, andiamo con la 19, 19, e questo è, uh, che bellino, è un gloss, questo lo metto subito, allora, aspettavo il rossetto rosso, ma va bene, anche, penso che sia quello, quello che non si tira via, questo, no? ma che mignotina, è profuso, è mignoto proprio, mettiamo il gloss, eh, così, ma non c'è neanche, così, ah, ma gloss non è, è tipo un lucido a labbra, è colorato, io pensavo fosse quello che metti su e non viene, e non viene più via, vabbè, quello lì, allora, andiamo con la 23, 23, che è un altro mignotino, che è, penso, un lucido a labbra, questo, lip gloss, è un lip gloss trasparente, ha le brillante, ha le viges, è un lip gloss trasparente, ok, andiamo con la 22, io aspettavo un rossetto rosso, perché visto che è Natale, c'è la matita, aspettavo anche il rossetto rosso, e questa è un lip twister, delineador labras, delineador labras, è un altro per far la linea alle labbra, allora, andiamo con la sette, otto e quattordici, la numero quattordici, è, questo qua è un altro rossettino, al vedere, difatti, è un altro rossettino, colore, così, andiamo a vedere, bellino però, dai, è colore, così, eccolo qua, questo qua, andiamo con la numero, però è bellino, dai, per costare quello che l'ho pagato, sinceramente, guardate che io ho visto calendari che hanno aperto, anche di 400 euro, che facevano cagare, ragazzi, andiamo con questo, che è, il, glow, ah, un prime, un prime, ok, andiamo col sette, il, meno male che non c'è dentro, quelle, quelle là che odio, che ne ho, non sai quante, ah, un altro rossettino, ma non l'avevo già trovato, qui, no, è ancora più scuro, questo, è un altro rossettino, questo qua, più scuro, le blender, quelle là, quelle spugnette là, allora andiamo con, la, 15, la 21, e la, 20, 15, 21, e 20, andiamo con la, niente, il rosso, non c'è dentro, andiamo con la 20, e qua c'è dentro, un altro lip gloss, bellino, questo tipo metallizzato, questo colore qua, il colore, questo mi piace, poi andiamo con la, quindi, eccola, ma, ma, ti pare, ma l'abbiamo appena chiamata, ma guardatela qua, e poteva mancare, questa, poteva mancare, ma ne avrò, voi non avete idea, di quante ne ho, voi non avete idea, la 21, che pesa niente, neanche questa, uh, c'è dentro, un altro, vabbè, questo nero, è fatto così, glielo darò a mio figlio, c'è dentro, uno per i capelli, non so se lo usa, perché c'è i capelli lunghi, anche lui, non so se lo usa, mi sta usando tutti quelli neri, piccoli, vabbè, andiamo con le ultime tre, allora, apriamo le ultime due, poi, c'è la 24, allora, andiamo con la numero 6, poi raccolgo quella che è caduta, la numero 6, c'è dentro un'altra matita, io sono sempre curiosa la 24, perché la 24, ci si aspetta sempre qualcosa di bello, no? Ah, bella, la matita nera, la classica matita nera, poi, cosa, ah, quella che a me è caduta, dove è andata? Qua, aspettate che la raccolgo, questa è la 16, che è la penultima, e dopo c'è la 24, la 16 è, un'altra matita, ecco, che è un'altra per le labbra, penso, lip, lip niner, delinquere of, no, questa è per, per le sopracciglia, per fare le sopracciglia, mo' arriviamo alla, la scatola è grande, secondo voi, cosa ci sarà ancora prima che la apra, scrivetemi commenti cosa ci sarà, per favore, abbiate pietà, scrivetemi quelle cose che non ho saputo cosa sono, perché non so cosa sono quei due affarini lì, allora, andiamo, non c'è neanche un rossetto rosso fuoco, proprio niente, no, vabbè, ma dai, cioè, ma puoi mettere, basta, cioè, ma puoi mettere, c'è nell'ultimo uno specchietto, vabbè, che dici, con tutta sta roba ti devi specchiare per metterla, ok, però, c'è, uno specchietto, ma che delusione, pensavano, non lo so, un rossetto rosso fuoco, che lo mettessero, perché è Natale, niente, niente, vabbè, c'è qua una montagna di roba, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio, un abbraccio, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi cosa servono queste cose qua, quei due che vi ho fatto vedere, e scrivete quel che volete, mettete like se vi è piaciuto, e alla prossima, ciao!